Prima di cominciare con il video ci tenevo assolutamente a mandare un grandissimo saluto ai miei nuovi amichetti Per essersi abbonati al canale Grazie mille ragazzi Mi raccomando Premi anche tu il tasto abbonati Scegli il livello di abbonamento che più fa per te Verrai salutato nel video di domani Avrai tantissimi vantaggi Ti aspettiamo in famiglia Non ci credo la schiena di Neymar Guardate qui l'abbiamo ottenuta gratuitamente E proprio lei ha i consigli Neymar Ma funziona veramente Io non ho parole E vai Mette ci siamo Ma questo schiena di Neymar Mi avete domandato tutti Come diavi ne otteniamo gratuitamente Bene sono qui per rispondere alla vostra domanda Però mi raccomando Prima di cominciare Io vi invito ad iscrivermi al canale Attivando la campanella delle notifiche Per restare aggiornati su ogni mio video Ed ovviamente su ogni mia live Quando ogni giorno alle ore 18 Quindi mi raccomando Premi ora il tasto iscriviti Ed attiva la campanella E mi raccomando Guardate un po' il negozio oggetti È veramente bellissimo Anche se dopo 24 ore cambia Che gioco che sono Mi raccomando Tasto supporto al creatore In basso a destra Ed inferite L'unico Solo Ed ilimitabile Codice creatore Gio trattino X97 Tutto maiuscolo Come vedete Qui dietro di me Ed ancora Qui sotto di me E mi raccomando Se le inserite Mi posso mandare direttamente Alla richiesta di amicizia Però Non fate furbacchioni Perché ti vedo E so che non l'hai inserito Ti do 3 secondi di tempo Per farlo Anche se Sono pochissimi Mamma mia Lo shop è pazzesco Controllate che nel supporto A un creatore In basso a destra Ci sia inserito Gio trattino X97 Il codice De pro Il codice Della vittoria Eccoci qua Eccoci qua 103.000 V-Bucks Questi sembrano I miei glitch Quando li faccio Per avere tantissimi V-Bucks Beh sicuro I miei funzionano I suoi Non lo so Beh qui mi sta dicendo Di inserire Il codice creatore Gio trattino X97 E' super importante Mi raccomando Mentre abbiamo sempre Un bellissimo Ometto lì dietro Però voi Guardate me Sono io che sto facendo Il video Beh che cosa intelligente Che ho detto qui Mi sta ripetendo Di usare il mio codice Bene adesso Arriviamo subito Quello che più ci interessa Infatti in portrait Amichetti miei Ha aggiunto tantissime cose Ci sono tantissime novità Abbiamo la data di rilascio Delle nuove armi Oh Non so da dove partire Le nuove armi Mi ripeto Sono due fucili a pompa E due R Il danno che implico Nei due fucili a pompa Sono 180 190 Da E corta distanza Media distanza Mentre da lunga distanza Ancora non si sa bene Per intorno ai 50 60 Mentre due fucili d'assalto Impligono Sugli 84 85 E verranno rilasciati Probabilmente il 14 aprile Si pensa io Non vedo l'ora Sono addirittura Già stati trovati Nei file di gioco Quindi ne vedremo Veramente delle belle E mi raccomando Anche il lancia Spazzatura Uscirà quel giorno Quindi Tiriamoci tanta spazzatura Nei miei server Privati Però Vedo qualcuno Qui dietro Chi è Beh sicuramente Penso che lo conoscerete tutti Insomma si chiama Neymar Junior Evo E' un po' squalida Comunque Mi raccomando Non lo possiamo ottenere gratuitamente Ecco come fare E' una cosa bellissima Perché lo stesso glitch Che avevate Che vi ho mostrato Per le skin Lo possiamo utilizzare Per quella di Neymar Ma quindi Questa collaborazione C'è Si fa Neymar è stata trovata Non è stata trovata Non esiste Un'invenzione Di noi player Assolutamente no Eccola qui Eccola qui Guardate un po' Iconsiris La skin Di Neymar E' ovvio che esiste Addirittura Guardate Guardate Io stoppo Quest'immagine Perfetto Perfetto Amichetti me Guardate ancora qui Sempre col parista In Germania Beh questo punto esclamativo Potrebbe rappresentare La skin Di Neymar Addirittura Voi sapete che insomma Come nazionalità Lui è brasiliano Si pensa che verrà Rilasciata Con due stili Una come di Marpa Gente Parte questo Bellissimo screenshot Con la skin Del Brasile L'altra Con la skin Del PSG Che è il club Francese Paris Saint Germain In cui gioca Monsieur e madame Guardate un po' Pure Questo screenshot De Neymar Che sta facendo La partita A 430 live Andate nella live Di Neymar E spammate Se vuole giocare Con me Eccola qui A gift from Epic Che joy Godi di questo regalo Dribble for a reason Cioè dribbla Per una ragione Head for the goal Parte del set Neymar Junior Eccola qui Come sarà Io Non ho parola Ovviamente Vediamo Lo stile Insomma Del Paris Saint Germain Però lo possiamo Come vi ripeto Ambinare Anche allo stile Brasileiro Eccolo qui Bene bene Ma adesso Come facciamo ad ottenerlo Per chi non volesse fare Questo glitch Vi ripeto Ovviamente Vanno fatti solamente In creativa Per testare con i vostri amichetti Il voto migliore Per ottenere le skin Quello o di giocare tornei O di comprarle Con il codice CIO Trattino X97 Altrimenti E al minuscolo Neymar JR Punto Skin Slash Get Now Ascoltate bene E copiate esattamente Amici miei Dopodiché Spazio E inserite la meravigliosa sequenza numerica Che vi andrò a dire 0 2 Aspettate che ce l'ho scritta qui nel blocco 4 8 9 7 3 9 4 1 7 0 6 1 8 4 2 Dopodiché fate invio Io vi ripeto Cancello il messaggio Altra cosa importante Non sono assolutamente io L'ideatore di queste glitch Beh diciamo che non so come farli Come inventarli Quindi Nel caso dovessero pacciarlo Qualcosa Io non c'entro assolutamente nulla Ho la coscienza Punita Andate dagli americani E scrivete Brutto budino Non hai fatto funzionare il glitch Io non c'entro nulla Dopodiché dovete andare In creativa Seleziona modalità di gioco Lo faremo dopo Nel mentre mettete creativa Fate accetta Ed entrate all'interno della modalità Mi raccomando Guardate bene ogni passaggio E nel mentre vi ricordo Di condividere il video Con tutti i vostri amici Così insieme potrete Ottenere le bellissime Schiri di Reimar Mi raccomando Condividetele Il video adesso Su Whatsapp Nei gruppi telegram Nei gruppi classe Dovunque dovete Assolutamente Spammarlo E' super importante Eccolo qui Bene Siamo nella nostra Hub in creativa Qui c'è una pecorella Ciao pecorella dolly Come stai ti prendo a picco No scherzo Scherzo Allora vediamo un po' Dobbiamo trovare Addirittura Abbiamo pure una gallina Ah ma c'è una fattoria Nella vecchia fattoria Usa il mio code creator Bene bene Basta Basta Insomma E dovremmo trovare adesso La nostra mappa Avete presente il posto in cui potete inserire Le vostre mappe Trovato Isole recenti Dovete selezionare O la vostra isola Altrimenti qualsiasi isola Che contenga una mappa Oppure se volete fare prima Dove sponate Andate dove c'è scritto La mia isola Bene Una volta entrati Nell'isola temperata Non DJX 97 Perché non avete acceso Al mio account Ma nella vostra Dovete premere Doppio spazio Perché da pc Oppure il tasto per volare Che vi farà insomma Restare sospesionari Alleggiadri Da pad E dovete recarvi A Sobordi scalcinati Dopodiché Dovrete fare Una costruzione Muro Pavimento Circondare il muro Quindi insomma Completare la costruzione Dei muri Dopo aver fatto ciò Fate Torna al centro Quittate la modalità creativa E il procedimento Alla fine È sempre lo stesso Cambia amichetti mie È solamente il codice Che dovete inserire Dopodiché Seleziona modalità di gioco Oppure se volete Se preferite Chiudete Riaprite E andate su battaglia reale E poi appunto Avrete la skin di remare Io vi ripeto Non c'entro nulla Potrebbero averlo patchato Non sono io l'ideatore Mi dissocio completamente E la skin Probabilmente Verrà rilasciata Intorno a metà aprile Con il torneo Quindi se volete ottenerla Giocate il torneo E io ve lo porto Solamente con la speranza Che possa funzionare E nient'altro Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Condividete il video Con tutti i vostri amici E seguitemi su Twitch Lì sono i live Tutti i giorni alle 14 Trovate il link in descrizione Se avete Amazon Prime Vi abbonate gratis Ciao